Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio di FIFA 14 Road to Prima Divisione Online Qui è il Gunner che vi parla Schieriamo alla nostra formazione non titolare per il prossimo match Questo è il nostro prossimo avversario e sti cazzi Però ci tengo a ricordare che la potenza è nulla senza controllo Ovvero puoi avere la squadra più forte del mondo ma se non sai giocare Vabbè, penso che l'avevate già capito Bene ragazzi, partiamo Questa partita è decisiva per il titolo della decima divisione Buona, buona Caceres Vai Muriel, Muri veloce, velocissimo Muriel Muriel, Muriel Palazzo 1-0 Rodrigo Palazzo la messa Ottavo minuto 1-0 Carter & Carter E andiamo Come una pace Alla Inzaghi Bello, bello Bello Muriel, ve lo consiglio ragazzi Vai Palazzo Per ora non si è affacciato ancora verso la mia area E una buona cosa Tentiamo però di chiudere la partita perché Veramente Non rischiamo come un'altra volta Bello Vabbè ma guardaline Ammetti che era per quell'altro L'avevo visto che era in fuori gioco ma io la volevo dare a quell'altro Lei è un po' un rincoglionito signor guardaline Bello E gliela fotte E gliela fotte E gliela fotte Come Goal 2-0 14esimo minuto E sta uscendo Oppure sta facendo sostituzione No che cazzo sostituzione No dai sta uscendo Che palle Dai Vabbè Sono stato forse un po' troppo veloce A fargli i gol troppo vicini Ma Del resto non è che posso fingere di giocare male Per evitare di far uscire la gente Eh Eh se no me lo infilano loro poi Nei FIFA precedenti mi era capitato di non esagerare E magari o pareggiavano O In qualche modo Riuscivano a raggiungermi O addirittura a ribaltare il risultato Quindi Da quel giorno ho detto Basta Mi faccio gola a bombazza Non abbiamo voti Perché la partita è stata troppo breve 14 minuti Prendiamoci sti pochi soldi Meglio che niente Eh Importante la classifica Le statistiche sono molto povere Anche perché la partita è durata Niente Bene ragazzi Fantastico Titolo vinto Mi dispiace Non sono Non sprizzo gioia Da tutti i pori Ma perché avrei preferito Giocarmela Eh Quattro vittorie E una sconfitta Eh Direi Discretamente bene Dai Sì ragazzi Faccio l'esordio in nona Perché la partita non è durata niente Quindi Ma sì Facciamoci un'altra Tanto la forma fisica non è diminuita È rimasta identica a prima Ecco ragazzi Il nostro prossimo avversario Anche lui Ha fatto una formazione Di serie A Partiti Da destra verso sinistra Carter and Carter Da sinistra verso destra Non mi ricordo come si chiama Buona con Co Bello Bello Vai Palacio Come Goal 1-0 Eeeh Eeeh Basta però Dai figa Appena iniziata Hai tutto il tempo Per recuperare Dai Eh niente Non Non ha voluto proseguire E tiriamo su altri primi tre punti I tre punti più veloci della storia del calcio No voti Soldi Le statistiche I primi tre punti della nonna divisione E facciamoci almeno un'ultima partita Sperando che duri leggermente di più delle altre Sai com'è Questo è il nostro avversario Come potete vedere Formazione basata sulla Premier League Partiti Fellaini L'uomo più bello del mondo Mi sto Oh Eeeh Oh Oh Uuuu Rischio Oh Più attenzione ragazzi Più attenzione E gliela fotte Dai Sì Di potenza Vai Gomez Eeeh Oh Oh Giallo minimo Bravo arbitro Fertungen Fertungen GOMEZ Baccia il palo ed entra in rete 1 a 0 Ma cosa più importante Non uscire ti prego Non uscire ti prego 1 a 0 Carter in Carter Oh yeah Oh yeah Bella Ma che bel fraseggio Dopo voglio il cartellino giallo Però voglio il cartellino giallo Signor arbitro Buona Muriel Non riesce a bloccare Noi come Di potenza Go Palazzo Scusate 2 a 0 E andiamo Non uscire Mi raccomando Non uscire Ammonito anche quello là Bene ragazzi Molto bene Adesso bisogna mettere al sicuro il risultato Per stare un po' più tranquilli Per ribadire in rete Dopo la prima respinta del quartiere Attenzione ragazzi Mi ha messo lui al sicuro il risultato Allora non so se L'ha fatto perché Se ci erano di coglioni E uscirà Imminentemente Ma Ci ha messo lui al sicuro il risultato Grazie my friend No sta giocando ancora Allora mi sa che ha fatto la cazzata Eeeh Eh sì Come sospettavo Anche questa volta Non riusciamo a oltrepassare Il ventesimo minuto Grazie ragazzi Un applauso La connessione con il tuo avversario Si è interrotta Ma verrà Analizzato Il rapporto Sulla partita Per stabilire Il risultato finale Eeeh Niente pagelle Pochi soldi E le statistiche Lasciano desiderare Bene ragazzi Altri tre punti Presi in questo modo Niente Dopo queste tre partite Velocissime Ci vediamo al prossimo video Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao belli Ciao belli Ciao belli